Giulio Della Vite è scrittore di diversi opere e torna con la sua ultima opera dal titolo Ribellarsi. Ci troviamo nella Curia Vescovile a Vigevano. Buongiorno e benvenuto. Grazie, grazie a voi e sono lieto di aver accolto questo invito. Cosa vuole trasmettere con la sua ultima opera? Con Ribellarsi è una provocazione perché Ribellarsi è inteso sì come reazione a tutto quello che ci sta inquinando ma soprattutto come essere ribelli, cioè tornare al bello, voler tornare al bello, voler desiderare il bello. Abbiamo sentito tanto in questi mesi la parola rianimarsi, mi piace giocare con le parole in questo libro dove rianimarsi diventa rimetterci anima, rimettere l'anima, ritrovare l'anima in tutto quello che facciamo. Praticamente presenta una sfida? È una sfida, una sfida della speranza in questo nuovo modo per ricominciare. Grazie, grazie a voi. E qui con noi anche Monsignor Maurizio Gervasoni, un suo pensiero di questa giornata e di questo libro? Beh, la giornata è molto significativa, molto bella, anche perché il titolo Ribellarsi per noi di Vigevano evoca un grande ribelle, un ribelle per amore che è Teresio Olivelli. Ma anche questa istanza della ribellione a fronte di situazioni che ormai strutturalmente sembrano diventare sempre più oppressive e capaci di uccidere la speranza. Quindi non è una ribellione violenta, è una ribellione a un establishment che trova le sue giustificazioni magari anche teoriche, ma che finisce di uccidere l'uomo e la libertà. Allora la ribellione in questo caso è risuscitare la speranza. Però occorre fatica, occorre intelligenza da un lato e fatica dall'altro. Ed è proprio quello che anche Teresio Olivelli voleva fare. Un'Italia diversa, con valori non retorici, ma con valori effettivi e con l'impegno di tutti. Ecco, questo credo che sia un po' il messaggio che nel libro vuole essere comunicato. Non posso dire se l'analisi completa è effettivamente quella a cui alludo io, perché il libro non si presenta come un libro tecnico, non è un saggio. E quindi lascia spazi anche a osservazioni molto più ampie, molto più leggere. E anche giustamente più contestabili, facilmente contestabili. Ecco, Don Giulio, l'autore, è stato mio alunno, lo conosco abbastanza bene. So che frequenta molto, diciamo così, l'ambito letterario. E in quello è sicuramente stato sempre molto attento e carismatico, ricco. Per cui direi che un libro così a lui sta molto bene. Leggiamolo e cerchiamo di imparare che cosa vuol dirci. Grazie, grazie mille.